Buonasera, ovviamente non c'è bisogno di presentazioni, se mai c'è bisogno di presentazioni dello spettacolo che è nella sala accanto per due settimane. Mi piace essere qui con Veltroni perché non solo si occupa di spettacolo, si è occupato, si occupa e si occuperà di spettacolo, ma lo fa in modo molto trasversale. Io credo che il teatro fosse un pezzo del puzzle che mancava, perché per il resto più che spettacolo, arte, letteratura, ovviamente il cinema, la critica, c'è di tutto un po', ma al netto delle cose di cui ha dovuto occuparsi e ha voluto occuparsi egregiamente delle faccende del cinema, diciamo politiche fra virgolette, le sovvenzioni, le liberalizzazioni delle sale, il credito agevolato, eccetera, eccetera. La passione sua ovviamente è un'altra e lo si vede bene anche in questa trasformazione che ha subito, ma subito non è un participio giusto, che ha arricchito proprio il testo letterario trasportandolo in scena. È uno dei rarissimi casi in cui, perché in genere succede che il libro film o film libro, ma insomma il 99% è libro film. In questo caso il libro teatro è abbastanza strano, devo dire. Allora volevo proprio, la chiacchierata è molto spontanea e molto naturale. Io ho visto lo spettacolo di serie e devo dire che il complimento più bello è che proprio riesce ad essere una cosa completamente autonoma rispetto al libro, pur ovviamente rispecchiandolo tutto. Però il gioco, il rimpiattino fra alto e basso, fra Stalin e Mike Bongiorno e soprattutto il gioco fra le due età che si capovolgono quasi, ha una dimensione di teatro narrativa molto autonoma. Beh sì, perché diciamo la struttura del libro è una struttura fondata sul dialogo, no? Per chi non conoscesse la storia del libro, che poi insomma è una storia reale. Tratto da una storia vera. Tratto da una storia vera, esatto. Il libro nasce dall'idea, dal sogno di un dialogo con mio padre, io non l'ho mai conosciuto, lui è morto a 37 anni, io avevo un anno, non ci siamo mai conosciuti, non abbiamo mai parlato ovviamente, non c'è nulla che leghi la nostra vita. Allora io nel libro immagino che, è un po' diverso da com'è in scena, immagino che nel giorno di Ferragosto, mentre io sto a Villa Borghese, che è un posto nella mia vita molto importante, a un certo punto lì ripenso a molte cose della mia vita, poi il cielo cambia colore, diventa di uno strano colore magico, comincia a scendere una pioggia che nel libro io definisco come di marshmallows, cioè una pioggia solida quasi, e io corro verso casa, salgo in primo piano, nel palazzo dove mio padre abitava, dove mio padre è morto, al piano di sopra, arrivo al pianerottolo del primo piano dove io abito adesso e trovo seduto sulle scale un ragazzo con un doppio petto, un borsalino e i capelli con la brillantina che mi dice ciao e io mi giro, apro la porta e dico ciao papà, entra. E così comincia questo dialogo, ci diciamo le cose che non ci siamo mai potuti dire e questo dialogo aveva una struttura teatrale più che cinematografica, per cui lo abbiamo adattato con Piero Maccarinelli e anche con l'apporto creativo di Massimo Ghini e di Francesco Bonomo, lo abbiamo adattato e sì anche un po' trasformato, però è rimasta ed è la cosa a cui io tenevo di più, questa dimensione abbastanza magica. A me piace enormemente la letteratura, diciamo del realismo magico, anche perché qualche volta la magia è più reale della realtà. Vi dico una cosa che non ho fatto in tempo neanche a dire a Massimo ieri sera, e cioè che l'altra notte, la notte che precedeva lo spettacolo, ma non credo ci sia una relazione emotiva tra questo, io mi sono sognato per la prima volta nella mia vita che parlavo con mio padre, ma parlavo al telefono, anzi ad una strana cosa che non era un telefono, una specie di autoradio che si staccava e con la quale si parlava. E mio padre che aveva un tono molto, è la prima volta che mi capita, non c'era mai riuscito a sognare neanche la sua voce che pure ho conosciuto attraverso i nastri. E mio padre però a un certo punto di questa conversazione mi diceva bene, adesso viene a casa che parliamo. Potete immaginare quale fosse il mio entusiasmo a che questo sogno della vita si realizzasse, solamente che io uscivo da questo luogo che non ricordo quale fosse e non trovavo la macchina. E giravo disperato alla ricerca di questa macchina, spingevo il telecomando nella speranza di individuare quale fosse la mia macchina, ma non la trovavo. E questo ha fatto sì che io mi svegliassi in una condizione di grande inquietudine, di grande angoscia. Sogno, però come tutti i sogni poi con evidentemente delle radici nella propria coscienza, nei propri vuoti, nelle proprie assenze, cioè nella realtà della propria vita. Direi sogno ma forse no, perché proprio il fatto che poi tu non trovi la macchina la dice lunga. Sì, perché è l'incompiutezza, cioè io fino adesso, Massimo come ci siamo detti il mio Walter Ego lo dice nello spettacolo, io ho sempre sognato l'annuncio dell'arrivo di mio padre, cioè ho sempre sognato che mio padre, c'era qualcuno che diceva adesso sta per arrivare, non arrivava mai. L'altra notte abbiamo fatto un passo in avanti, perché appunto ho sentito la sua voce, in sogno, ma l'ho sentita. Quindi qualche... Lo sbarco di un alleato, uno solo. Sì, esatto. Massimo. Buonasera, buonasera a tutti. Scusate ma faccio tardi perché stavo lavorando, sto facendo giri di interviste e dopo me ne dovrò riandare perché ho una diretta qui alle otto. mio asciutto. Va benissimo. Allora vuoi dire subito qualcosa? No, stavamo parlando... No, per legarmi a questo che oggi uscivo dallo studio della RAI e mi sono trovato davanti una foto di papà con Carosio, lo sai? Era Buoncompagno, sì. Ah, ecco. La Maria Luisa Buoncompagno. Ecco, ed era una foto del 1939, giusto? Sì, con davanti la scritta. La televisione sperimentale praticamente. Sì, sì. E era pazzesco perché si è aperto questo ascensore e mi sono trovato davanti Vittorio Veltroni e ho avuto una piccola emozione perché ho detto, dico, vedi questa sorta di inseguimento che c'è in questo momento tra queste storie, significativa. Niente, io non so che punto della storia... Ma eravamo appunto in un punto paranormale, mi spiace, io non ho nulla di paranormale adesso da aggiungere, ma però sono già belle le vostre due cose. Raccontava Walter la dimensione e quello che ha conservato invece del libro, il testo. No, parlaci tu invece di come hai evitato di fare il Walter Ego, ma che personaggio diventa? Diciamo una cosa, e lo dico a te nella veste anche di critico cinematografico, è la seconda volta che faccio Walter, nel senso che la prima volta c'era una citazione di Walter nel film Zitti e Musca di Alessandro Benvenuti, e racconto spesso questa storia che io non gli avevo detto assolutamente niente ed ero andato di nascosto dal suo ottico sotto casa e sono entrato e gli ho detto, senta, vorrei farmi degli occhiali come gli occhiali di Veltroni. Questo mi ha guardato così, però non mi ha detto niente. Due giorni dopo lui mi chiama e mi fa perché ti fai gli occhiali uguali ai miei? Ottico di fiducia. Ottico, chiaramente del KGB che sapeva tutto, dico no guarda non ti volevo dire niente, te l'avrei detto tu, semplicemente perché se tu ricordi il film, il film racconta la storia in chiave di commedia sublime, secondo me, della prima festa dell'unità del nascente PDS, non più del PC, quindi era ambientato dentro questo piccolo paese della Toscana con ricordi scontri, insomma, e c'era questa famiglia che era un po' la memoria storica dell'ideale del partito e c'era questo, siamo stati giovanotti anche noi, questo giovane emergente nella politica e allora per dargli un'immagine mi ero, diciamo, ispirato a Walter. Quindi quando Walter e Maccarinelli mi hanno parlato di questa operazione ho detto, dico vedi, lo dico per ridere, ma io ho fatto due volte Galeazzo Ciano e due volte Veltroni, adesso questo per rimanere... Infatti io l'ho un vato a Verona in questo periodo, per sicurezza. Evitiamo certi luoghi, ma va bene, al di là dello scherzo, io ho già raccontato in un'altra conferenza stampa, in altri incontri, spesso in interviste che hanno giocato molto sull'emozione nel momento in cui mi hanno parlato di questa storia, io conoscevo questa storia, raccontiamo che noi ci conosciamo da quando avevamo 15 anni, la nostra è una vicinzia, una conoscenza di lunga data e in qualche maniera, non ne abbiamo mai parlato fino in fondo, però ogni tanto di questa storia della nostra, diciamo dell'assenza che abbiamo avuto della figura del padre, ci è capitato di accennarlo un po', di saperlo l'uno dell'altro, poi non ne siamo mai andati fino in fondo. Io vengo da una storia poi anche io con una sorta di convitato di pietra, come dico, importante per ragioni storico-politiche, anche mio padre è uno che viene con una storia, importante dietro le spalle, è stato un partigiano deportato a Mauthausen, membro del partito comunista, funzionario di partito, lo soprannominavamo Brezhnev, questa era per darvi l'idea del personaggio, persona però con la quale io non sono assolutamente cresciuto, che racconto oggi posso dirlo con una certa distanza, mio padre è morto nel 90, insomma ho convissuto dieci volte forse in tutto l'arco di quegli anni, quindi l'assenza da questo punto di vista è stata netta, importante e in più sono anch'io figlio di un'epoca in cui questo tipo di difficoltà, cioè essere figli di genitori separati, beh insomma si portavano sulle spalle come quasi un tipo di vergogna, nel tempo con la Berlinguer raccontavamo la storia della firma del padre o di chi ne fa le veci e allora tutte le volte che mi capitava di portare questo documento in cui mia madre firmava all'inizio, io venivo quasi sgridato, allora a un certo punto con mia madre, confesso, abbiamo cominciato a fare la firma falsa perché in qualche maniera dovevamo uscire, no? Che paese! Oggi se vai a scuola pure noi siamo padri e ti incontri con le altre famiglie, ti accorgi che la situazione è completamente rovesciata, forse il 60-70% sono famiglie allargate. Detto questo, nel momento in cui mi si è parlato di questa operazione l'ho affrontata anche dal punto di vista del rapporto passaggio tra la lingua scritta, la parola scritta e la parola recitata, la narrazione di questo viaggio che Walter fa nel suo racconto e che mi fa avere nei suoi confronti un'ammirazione enorme perché io gli ho raccontato quel libro e l'ho letto con molta difficoltà perché il libro anche a me da lettore, come dire, apriva degli squarci e allora ogni tanto lo chiudevo, passava qualche giorno, poi ricominciavo e via. Mi sono immaginato nella sua posizione, cioè di chi ha affrontato in prima persona, racconta, parla, apre il cuore, l'anima e si mette anche in discussione e questo lo trovo assolutamente coraggioso. Io l'ho immaginato molto ieri sera questa cosa perché ancora di più attraverso il plusvalore emotivo che dà il teatro, come reggi? Tu prendi molto l'Exotan prima? No, per me il momento più duro psicologicamente è stata la scrittura del libro. La scrittura del libro è stata molto bella, molto bella soprattutto per la preparazione perché i libri si preparano e questo è il libro che io preparavo da decine di anni, però finché ho avuto ruoli pubblici mi sono astenuto da scrivere un libro così. Ho messo le mani nelle scatole che mia madre aveva conservato con dentro tutte le cose di mio padre compreso la sua ciocca di capelli, compreso il suo ultimo pacchetto di sigarette, compresa la sua patente, la sua tessera delle Olimpiadi del 52. Insomma, e poi tutti i ritagli di giornale, poi tutti i telegrammi che sono arrivati, le lettere. In una di queste lettere per esempio Niccolò Carosio scrive a mia madre, ci pensavo mentre lui citava Carosio, scrive a mia madre che qualche tempo prima di morire, perché la malattia di mio padre è stata molto breve, io ho trovato dei suoi biglietti dello stadio di marzo del 56, lui è morto il 26 luglio del 56, il giorno in cui ha fondato l'Andrea Doria. Niccolò Carosio gli racconta a mia madre che quella sera, la sera in cui avevano fatto evidentemente una telecronaca, allora insieme una radiocronaca, lui era andato a cena da casa di Niccolò Carosio qui a Milano e gli aveva parlato di me. Ed è l'unica traccia di relazione che c'è tra me e mio padre e in omaggio a quello che poi è stata la mia persecuzione insieme alla Nutella per tanti anni, gli diceva mio padre a Carosio quanto fossi buono come bambino. e quindi sono tenuto questa cosa e me la sono portata a pressa. Per cui entrare in questa dimensione è stato molto bello e molto faticoso, solo che io scrivevo questo libro nella stanza dove immaginavo che si stesse facendo questo colloquio, tra me e mio padre. Per cui quando arrivava la sera io alzavo la testa dallo schermo e potevo immaginare che ci fosse davvero lui. Oppure nella parte finale dello spettacolo ci sono le immagini del funerale di mio padre che furono girate dai suoi colleghi del telegiornale e che sono state riprese dalla finestra di fronte alla finestra dello studio dove io ho scritto il libro. C'è un filmato che non c'è nel libro, che non c'è nello spettacolo, che per me è stato il più devastante perché è un filmato del capodanno del 1955, 31 dicembre del 1955, in cui diedero a mio padre il microfono d'argento al veglione della stampa romana e ci sono le immagini di lui che ritira il premio e poi ci sono le immagini. Io mi sono sempre immaginato che al piano di sopra di dove stavo scrivendo 60 anni prima mia madre e mio padre si saranno preparati per quella serata. Ci saranno vestiti nel modo migliore, saranno andati con la macchina, magari con la Fiat 19, saranno andati all'Eur dove questa cerimonia veniva fatta, avranno gioito per questo premio, avranno stappato lo champagne, avranno bevuto, avranno ballato, avranno celebrato l'arrivo del 1956 e dopo sette mesi mio padre non c'era più. Quelle immagini sono state delle immagini molto dure, così come i racconti che i suoi amici, perché il libro, in qualche modo quindi anche lo spettacolo, ha un prequel, diciamo così, che è questo. Nel 1996 io scrissi a tutti gli amici di mio padre, che allora erano ancora in larga parte vivi, per chiedere loro di raccontarmi qualcosa di mio padre e mi sono arrivati a delle lettere meravigliose, delle quali c'è traccia sia nello spettacolo che nel libro, da Ugo Gregoretti a Ettore Scola, a Corrado, a tanti altri, Sergio Zavoli, Nando Martellini, insomma tutti mi hanno mandato delle cose molto impegnate, perché sono rimasti tutti molto affezionati, questa è una cosa che mi ha sempre colpito, sono rimasti tutti molto affezionati a mio padre. Mio padre aveva 37 anni quando è morto e quando ha fatto il capo delle radiocronache ne aveva 21. 21. No, 31, scusate. Lui era del 18, nel 49 ne aveva 31. Però era il loro capo. A 31 anni era il loro maestro. Li aveva scelti lui, li aveva cercati lui. e poi mio padre era uno, da quello che ho capito, e come Francesco rende benissimo sullo schermo, era un uomo molto aperto, molto spiritoso, molto inclusivo, e quindi era rimasto nel cuore di tutti i suoi colleghi. Poi per il fatto di essersene andato così giovane, ovviamente, come sempre succede, si lascia una traccia maggiore. Per cui, ecco, l'idea che questo ragazzo a un certo punto, d'improvviso, se ne fosse andato, mi ha spinto anche a immaginare questo dialogo come lo spettacolo ha reso benissimo, come un dialogo a parti rovesciate. Un padre e un figlio che però hanno l'uno l'età del figlio e l'altro l'età del padre, ma rovesciati. Perché io potrei essere il padre di mio padre, per età. E io so molte più cose di lui, ho vissuto di più di lui, ho conosciuto più di lui. Insomma. Però è molto bello che tu non abbia tanta voglia di spiegargli cos'è. No. Com'è adesso? No, perché sarebbe inutile spiegarglielo. Chi crede può immaginare che lui lo sappia, perché chi crede ha questa meravigliosa possibilità di pensare che nulla finisce e quindi che ci sia uno sguardo che continua sulle cose del mondo e di ciascuno di noi. Chi non crede può pensare che quell'energia comunque rimanga. Tanto rimanga che noi 60 anni dopo parliamo di lui. Eh sì, la memoria storica è più della fede quasi. Assolutamente. A conferma che la memoria, ecco questa è una cosa, vi rubo solo un secondo, la memoria è una cosa molto... Poi ci sono stato a girare una cosa per Skype, per il film nuovo che esce tra poco, a Villa Necchi, che voi conoscerete benissimo, che è una villa di cui io ho letto tantissimo perché è stata la residenza di Pavolini e del comando nazista. A un certo punto, mentre mi hanno fatto vedere questa villa meravigliosa, ho chiesto se quando, diciamo, c'era stata la liberazione avevano trovato delle carte e mi hanno detto che sì, che erano state trovate delle carte dalla famiglia in un sottoscala, non so dove, nascoste, e che però queste carte erano state bruciate. E io pensavo il contrasto tra questo gesto dare fuoco a carte che probabilmente erano preziosissime, anche perché Mussolini frequentava molto Villa Necchi, essendo la prefettura poco lontana. Chissà che cosa ci sarà stato scritto in queste carte, non lo sapremo mai. Il contrasto tra questo rogo delle carte e invece la conservazione di quel luogo. Quel luogo è tenuto in modo tale che lo si possa percepire così come era quando ci si sedeva la famiglia Necchi o ci si sedeva Pavolini. e fa una certa impressione. Il fai lo sta tenendo meravigliosamente. Questo è il gioco della vita tra bruciare e conservare. Tra negare ciò che è stato, se tutto fosse bruciato, noi non sapremmo nulla di quello che c'è stato prima di noi, o il conservare, e cioè il trasmettere, il trasferire e fare in modo che quella condizione entri nella nostra vita. guardate, questo è un punto chiave della società tecnologica nella quale viviamo, che paradossalmente è fondata sulla memoria, la memoria del computer, ma che ha la sostanza, ha la negazione della memoria, perché ci confina in un presentismo assoluto che non ha né la curiosità del passato che considera che in caglieria vintage, non ha fiducia nel futuro che anzi spaventa e quindi si consuma nello spazio concitato di 24 ore nelle quali tutto accade e tutto si cancella. La nostra memoria è cambiata, è cambiata. Se io vi chiedessi quando c'è stato l'attentato a Bruxelles all'aeroporto, nessuno di voi se lo ricorda. Siamo portati a pensare che sia tanto tempo fa, invece no. perché la vita si è fatta molto più concitata e la nostra memoria molto più selettiva perché è bombardata e siccome il cervello è come un cassetto, metti i fogli e poi a un certo punto non ce ne entrano più e si cominciano a espellere e a forza di espellere purtroppo la storia ci ha dimostrato che quando perdi memoria il peggio della storia tende a riproporsi. E una società senza memoria è una società pericolosa. Per me una società senza memoria assomiglia a una società senza libri a quella di Fahrenheit. I libri e le parole fanno paura perché sono libertà ma anche la memoria è libertà. La condizione più spaventosa della vita umana è la perdita della memoria. io e finisco chiedo scusa c'è un grandissimo scrittore italiano uno dei più grandi scrittori italiani giovane che da qualche anno io ne ho parlato nel libro senza citare il suo nome che da qualche anno non ha più le parole che per uno scrittore è un paradosso lui aveva delle parole raffinatissime era come posso dire il più naturale erede della tradizione di Calvino forse uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento Calvino e le ha perse non parla più e non capisce più o perlomeno sembra che non capisca più quella è la condizione umana più devastante anche perché non parlando lui non ci può dire se lui capisce e quindi noi stessi che pure abbiamo la presunzione di capire non possiamo capire se lui capisce e quindi il suo silenzio diventa la nostra ignoranza che è una condizione che se tende a diffondersi ci rende tutti molto più deboli molto più esposti siamo già sì secondo me si è già abbastanza allargata essendo nel frattempo arrivato tuo padre volevo chiedere ai due attori che tra l'altro sono bravissimi e sono lì da vedere fra un'ora com'è questo gioco a ping pong fra un signore che dovrebbe essere il più vecchio e in realtà il più giovane e viceversa e nello stesso tempo anche un gioco fra di voi che invece siete coevi più o meno forse massimo meno coevo tu di più ecco come funziona come c'è qualcosa di emotivamente improvvisato c'è qualcosa che muta o avete fissato come si suol dire ci sono quei giochi che sempre quella diciamo quell'estemporaneità che fa parte del teatro che è quella cosa di quella sera lì che può essere più o meno riuscita più o meno come dire in ascolto col compagno un grande compagno di scena quindi sono molto facilitato in questo però diciamo lo spettacolo è uno spettacolo di prosa a tutti gli effetti perché è uno spettacolo montato e tutte le sere seguiamo la partitura quindi diciamo che improvvisazione pura nel senso forse che intendi tu non c'è però sicuramente una cosa mi capita sempre tutte le sere devo dire quando io e Massimo siamo uno di fronte all'altro e lui diciamo parla di suo padre quindi di me rendendosi conto che in fondo sono un ragazzo e dicendo che appunto il padre se n'è andato all'età di 37 anni c'è sempre un po' di commozione in me che ricevo la battuta quindi credo anche in massimo necessariamente anche se non è una cosa diciamo partecipata ma tra di noi io la sento questa cosa è un bel gioco un bel gioco perché mi permette di come dire di affrontare il personaggio a un livello complesso perché è figlio ma nello stesso tempo come dire può giocare con con suo figlio con qualche tipo di autorità essendo il padre ma nello stesso tempo è un ragazzo è sempre è giocoso questo nella natura chiaramente del personaggio tratteggiato da Walter scritto anzi non tratteggiato è scritto molto precisamente hanno entrambi un duplice ruolo sì hanno entrambi un duplice ruolo anche il personaggio di Walter quindi massimo è padre a sua volta e quindi questo si sente sia nel testo che nel peso del personaggio e del rapporto c'è anche proprio una battuta del testo che parla di questo a proposito della memoria e dei racconti mi piaceva citare una battuta del testo in cui padre e figlio si rimpallano questo concetto in cui si dice la memoria è fatta di racconti e il padre figlio risponde sì raccontare è vivere quindi diciamo che questo concetto che ha espresso Walter sulla memoria su quello che siamo attraverso la memoria devo dire è molto 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 presente in concreto nello spettacolo e credo arrivi molto forte insomma è poi la funzione del personaggio stesso che è chiaramente una memoria è una proiezione dell'autore quindi è chiaramente un gioco fantastico grazie volevo solo tecnicamente sulla domanda che facevi noi abbiamo lavorato in realtà con con molta fatica da questo punto di vista nel senso che adesso non so chi ha visto lo spettacolo chi non l'ha visto tra di voi non voglio anticipare niente ma insomma il gioco è stato questo che fin dall'inizio parlo di me ma credo che Francesco sia stato nella stessa ottica ci siamo un po' in posti di non lasciarci trascinare dall'emozione non per non averla ma perché tecnicamente il lavoro che devi fare è un lavoro di costruzione artigianale e io fin dall'inizio fin dalla prima scena faccio una fatica enorme ecco perché dico non volevo anticipare perché comunque sia quel racconto che tu fai non è una passeggiata domenicale voglio dire allora ho sempre ragionato in questa direzione io devo portare il personaggio e l'emozione del pubblico con un passo che sia come dire lento ma continuo perché altrimenti è come in una partitura musicale è come se tu ci avessi immediatamente un finale per poi ricominciare allora ci siamo guardati ci guardiamo negli occhi e abbiamo iniziato questi percorsi in cui l'emozione più forte perché quella reale è quella del figlio cioè del mio personaggio che si trova ad affrontare questa prova principalmente con se stesso dall'altra parte è meraviglioso il gioco del contrasto a togliere del padre per cui ogni volta rispetto all'emozione che il figlio comunque tira fuori e cerca di affrontare il padre gliela smonta immediatamente e questo secondo me è il meccanismo chiave che fa funzionare la cosa non ti nego che l'emozione vera viene fuori nel momento in cui poi più tranquilli tra virgolette del percorso intrapreso per fortuna siamo fatti di carne ed ossa per cui c'è un momento in particolare in cui un po' mi trattengo che pensa stranamente non è nel rapporto col padre nel senso che quello è talmente evidente che sarebbe pure facile io mi sento molto emozionato nel momento in cui il personaggio lancia quella sorta di chido disperato parlando della libertà della democrazia dei tempi di quello che attraversiamo perché sento che in quello c'è a maggior ragione cioè il resto della storia è qualche cosa che ti è accaduto e del quale non sei responsabile nell'altro tipo di considerazione che fai nel momento in cui tiri fuori l'anima diciamo più politica più pensante più filosofica ecco in quello sento e avverto una grande emozione e stranamente è quello il momento in cui mi viene ancora di più perché forse è l'emozione più forte e meno rappresentata l'altra è un'emozione emozione diciamo che tutti possono condividere quando parlo alla fine di come infatti non è tanto strano perché l'emozione che dici tu è perché in fieri stai dando alla sala alla platea una cosa lì è quello la gente che è venuta nei camerini pensa all'emozione mi diceva perché a Firenze quelle parole che ho sentito dire ecco e capivo che c'era dentro si smuoveva qualche cosa non che l'altro non lo fosse però il rapporto padre figlio è più semplice che sia emozionale è l'altro che diventa grande emozione bisogna piangere molto alle prove e poi non più come diceva Streller ma anche qui vedi cioè noi siamo a forza del politicamente corretto che diciamo ha dei pregi ma anche come posso dire delle contraddizioni per esempio noi si tende a rimuovere tutto quello che produce emozione pensando che questo sia retorica io invece comincio ad avere fastidio per un'altra retorica che è la retorica dell'odio che è la retorica dell'invettiva che è la retorica del fa tutto schifo eccetera le emozioni sono un elemento costitutivo della nostra vita e sinceramente sono anche il momento più bello della nostra vita non importa quale emozione si può provare emozione per per un amore per una squadra di calcio per una battaglia collettiva per un incontro per un libro per qualsiasi cosa io diffido di quello che non produce emozione perché alla fine penso sia un po' tempo perso tra le emozioni c'è anche il pensiero ci sono libri che sicuramente non è che hanno una struttura narrativa che tende a produrre emozione che però ti aprono delle finestre meravigliose su orizzonte che non conosce quella è un'emozione però le emozioni sono importanti quando ieri sera persone insospettabili si sono commosse allo spettacolo si sono commosse per questa parte civile per esempio anche il dialogo che c'è tra loro due diciamo così sul tema del fascismo è un dialogo molto importante molto impegnativo però anche per la parte che smette di essere mia e diventa di ciascuno perché se ognuno di voi adesso si alzasse in piedi e raccontasse la storia del suo rapporto con il suo padre comunque verrebbero fuori delle poesie io ho scoperto nella mia vita anche facendo questi film intervistando la gente io ho scoperto che ogni persona ogni persona nessuna esclusa se stimolata ad attingere alla memoria alla coscienza al dubbio alla sua storia personale ha dentro di sé una infinita quantità di poesia di poesia nel senso letterale del termine non c'è una vita che non abbia dentro una struttura poetica solo a trovarla allora non c'è nulla di male se l'emozione che ciascuno di noi ha dentro del rapporto col padre che è un rapporto di conquista e di seduzione di seduzione nel senso alto del termine perché il rapporto con la madre è un rapporto se volete più ancestrale più naturale si sa che l'amore della madre c'è è una delle diciamo strutture della gerarchia del potere che ha meraviglia e contraddizione dentro l'amore del padre l'apprezzamento del padre il riconoscimento del padre talvolta la permanenza del padre io ho conosciuto figli che si sono dannati l'anima per tenere il padre dentro casa ciascuno ha una storia mi sono capitate perché poi io sono diventato adesso paradossalmente un esperto del rapporto padri figli non essendo stato figlio diciamo però la gente mi scrive e mi chiede dei consigli che io erogo sperando di non sbagliare ma l'ho raccontato l'altra volta a Firenze a me ha scritto una signora che mi ha detto che lei non aveva mai abbracciato suo padre nella sua vita perché ci sono i padri anaffettivi o anaffettivi o timidi o che non hanno quella propensione alla dimostrazione del proprio calore ci sono padri che non parlano con i figli da decine di anni padri che sono spariti è molto difficile trovare una madre che è sparita noi uomini siamo insomma un po' particolari ecco siamo molto egocentrici siamo ci consideriamo sempre il cuore dell'universo e se tutto non ruota attorno a noi abbiamo paura che le cose non vadano come devono andare siamo più deboli siamo più fragili siamo più in fuga insomma abbiamo tante caratteristiche non brillanti e guardate questo problema è anche un problema di questa società perché il padre nella misura della sua figura autoritaria perché il padre è anche una figura autoritaria noi siamo figli Massimo ed io e anche Maurizio un po' meno Francesco siamo figli di generazioni nelle quali i padri erano tosti io avevo un compagno di classe che tutte le sere veniva preso a cinghiate dal padre perché? a prescindere a scopo diciamo preventivo veniva preso a cinghiate cinghiate non mica scherzi c'erano padri che arrivavano a casa e si faceva il silenzio non si parlava si aspettava che soffiasse la parola della Cassazione il padre da quello che fu demolito col 68 all'idea che sia una società nella quale oggi noi siamo nella quale la figura del padre intesa come ciò che il padre nella sua accezione migliore è autorevolezza esperienza trasmissione della conoscenza della vita tutto questo anche è stato considerato progressivamente inutile per cui a tutti i livelli in ogni dimensione questa figura del padre della quale la società ha bisogno è sparita è sparita per creare una cosa in una società nella quale tutti siamo in condizione di parlare con la stessa cognizione di tutto non importa se ne sai e quindi se hai quel sapere che spesso deriva dall'esperienza o deriva dal talento ma tutti ci sentiamo di poter essere contemporaneamente commissari tecnici della nazionale governatori della banca centrale direttori della televisione tutti sentiamo di poter essere tutto perché non riconosciamo il fatto che l'esperienza e quindi virgolette il padre sia una figura della quale abbiamo bisogno perché alla fine il riconoscimento di quell'esperienza ci imbarazza perché è in una società in cui l'elemento dell'autostima è assolutamente necessario è una limitazione dell'autostima e cioè sapere che accettare che ci sia qualcuno che ne sa più di te significa limitare la stima nei confronti di te stesso e quello che un tempo era esageratamente conferito alla figura paterna oggi è stato drasticamente sottratto e per cui è una società nella quale si fa fatica io faccio sempre un esempio a me stesso ci sono dei momenti della storia in cui una società ha bisogno di una figura paterna la seconda guerra mondiale prendiamo il caso a seconda guerra mondiale Roosevelt chiese agli americani di mandare i propri figli a morire in Europa per farlo bisognava avere una grande autorevolezza che gliene importava a una madre del Wisconsin di mandare a morire suo figlio in Normandia ma lo fecero lo fecero e le croci bianche che ci sono lo dimostrano lo fecero e noi guadagniamo la libertà per farlo accolsero l'appello del loro padre pubblico e collettivo che era Franklin Delano Roosevelt una società senza padre una società nella quale di fronte ad una situazione di questo genere probabilmente non scatterebbe lo stesso meccanismo vedete come la figura paterna nel senso alto del termine è una necessità della società non l'autorità paterna ma l'autorevolezza paterna questo sì questo serve quindi in qualche modo questo spettacolo questo dialogo che poi diventa anche grazie soprattutto al modo in cui loro lo fanno diventa anche un modo per ragionare sulle due Italie quella di mio padre e quella mia e alla fine poi ci riporta anche a questo tema ti do anche una buona notizia perché il film nuovo di Gianni A meglio che è bellissimo che si chiama la tenerezza è esattamente questo la storia di un padre eccetera eccetera insomma ma con queste premesse che dici tu pensa al libro di Recalcati che ha avuto il successo che ha avuto questo tema è un tema che dentro il cuore della società è molto forte tutto il teatro americano il fatto di questo esatto ma oggi è molto ancora più forte di ieri perché si sente questo bisogno tu hai detto prima che questo non può essere un film però ti è sfuggito che lui sullo schermo è molto bravo anche lui sullo schermo se la cava potrebbe dato che poi il topos della cosa è classico della fantascienza no? sì non è che pensi che potresti che magari forse può darsi domani un giorno che questo diventasse è anche un gothic ma non lo so guarda perché non lo so la dimensione teatrale mi sembra più più propria per una storia di questo genere perché è una storia molto calda e restituirla al cinema secondo me qui c'è bisogno di fisicità ecco il teatro in questo momento secondo me è in una fase che potrebbe essere se le condizioni generali aiutassero che potrebbe essere particolarmente importante per il teatro perché è l'unica dimensione insieme ai concerti musicali in cui c'è un elemento di fisicità a Milano è già così il teatro non solo è più vivo è più vitale eccetera ma in particolare in questa piazza come avrete sentito dire anche a Roma il teatro vive una stagione particolarmente felice anche in virtù di luoghi fisici che sono come questo come altri e poi qui c'è una tradizione a Milano di teatro che insomma nasce da lontano però mentre il cinema io sono ovviamente un difensore della fruizione in sala ma il cinema è ripetibile seppur non nelle sue condizioni migliori su un grande schermo e un impianto audio adeguato il teatro non è ho visto che si fanno delle esperienze di teatro in casa cioè ci sono gente che chiama a me quello convince poco però è una cosa molto interessante sempre qui a Milano può essere può essere però la dimensione collettiva di un'esperienza di fisicità è del tutto particolare io ho visto due volte lo spettacolo e non ho visto lo stesso spettacolo perché loro ogni sera introducono degli elementi creativi innovativi un film è sempre un film ma anche il film è diverso ogni operazione perché sei diverso tu però sei diverso tu anche a teatro quindi è al quadrato non c'è niente da fare siamo sempre diversi per fortuna mi scusate ma io vado a dire esattamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso alla radio buon proseguimento a tutti il principale sostituto di mio padre è stata mia madre cioè mia madre che è stata una donna strepitosa si è trovata a 33 anni con suo marito morto due figli piccoli aveva un anno mio fratello ne aveva sette da tirare su è andata a lavorare in Rai al posto di mio padre ma facendo la funzionaria la semplice funzionaria abbiamo cambiato casa perché prima avevamo la casa di un direttore di telegiornale dopo abbiamo vissuto in una casa da funzionaria della Rai mia madre aveva avuto nello spettacolo si racconta suo padre mio nonno che era stato preso dai nazisti e torturato a Biatasso e c'è una storia che nel libro c'è nello spettacolo non c'è che mi ha raccontato mia zia che vive in Canada che mi ha mandato il suo diario vedete il valore della memoria io invito sempre tutti a scrivere i diari a scrivere io mi lamento con me stesso anche per la quantità di cose belle che mi sono capitate nella vita di non avere avuto la costanza o se volete anche per riserbatezza di non aver scritto quello che ho vissuto mia zia mi ha mandato un testo che non è un diario ma è una ricostruzione di quello che la sua memoria e c'è una cosa che mi ha molto colpito e cioè nel Natale del 44 mio nonno era stato preso il 28 ottobre dai nazisti insieme a mia nonna quindi loro due mia madre aveva 21 anni e mia zia ne aveva 8 c'era una gran differenza tra loro due si trovarono da sole e da sole con un padre e una madre in una scella di via Tasso mia madre e mia zia furono ricoverate in un collegio di suore sulla Nomentana a Roma e mia zia racconta che la notte di Natale del 1944 si svegliò e vide mia madre che preparava un pacchetto con dentro un regalo per lei potete immaginare cosa avrà potuto trovare mia madre da sola nel Natale del 44 insomma mia madre con mia madre la vita era stata abbastanza pesante perché poi muore mio nonno lei si sposa con mio padre diciamo a cavallo di quegli anni e poi dopo poco però lei ci ha tirato su sempre in allegria io non ricordo una volta che lei abbia pianto almeno davanti a me poi magari l'avrà fatto anche quando se n'è andata se n'è andata in un modo talmente lieve il giorno in cui se n'è andata lei ha telefonato la mattina ha parlato con tutta la famiglia io ero in campagna elettorale in Umbria e mi ricordo che le ho telefonato la mattina per sapere come stava e abbiamo commentato il premio Oscar a Salvatore per Mediterraneo che era stato dato la sera prima mia madre stava a casa perché stava male scriveva dei romanzi rosa ogni tanto mi chiedeva mi porti la guida del Senegal io dicevo scusa mamma ma Senegal tu non ti preoccupare tu portami la guida del Senegal e lei ambientava delle storie in Senegal era una donna veramente straordinaria insomma sempre sorridente sempre positiva se c'era un problema si risolveva tra le cose che ho trovato nella cassetta che è una cassetta nella scatola nella quale ho frugato a un certo punto ho trovato le cambiali che mia madre aveva firmato per comprarmi il motorino nel 1972 il mio primo motorino aveva firmato delle cambiali e mi ricordo che mi disse io ero molto titubante il fatto di infliggerle una spesa ulteriore mi disse non ti preoccupare in qualche modo faremo e questo in qualche modo faremo era un modo per dire insomma per dire non ti preoccupare ecco e quindi ecco non so se sostitutiva però però lei è stato un grande riferimento e il mio come posso dire il mio rispetto per la figura delle donne per l'autorevolezza delle donne per la grandezza delle donne nasce da lì nasce dal fatto che che non c'è stato un momento in cui io mi sentissi solo anche se devo dire nel libro e non c'è nello spettacolo io a un certo punto dico gli orfani non frignano gli orfani che è una parola persino brutta da dire preferivo sempre dire un'altra cosa ma insomma io ero molto responsabile fin da bambino perché perché sentivo che non potevo pesare su mia madre non potevo dargli un pensiero no sono sempre stato molto disciplinato ma autodisciplinato forse per questo perché perché non volevo che lei si preoccupasse per me perché ne aveva già avuto abbastanza dalla vita e questo io l'ho percepito subito però ecco a casa mia non c'è c'è una cosa che che poi in un dibattito con Recalcati ci siamo lui mi ha spiegato perché lui fa di vestire questo spiega quello che succede nel cervello degli altri io non ho mai chiesto a mia madre come era morto mio padre per così per discrezione però una volta gliel'ho chiesto eravamo in macchina stavamo andando a prendere mio nipote all'aeroporto che ieri sera era a vedere lo spettacolo che si chiama come mio padre Vittorio Veltroni e ho preso il collaggio a quattro mani e le ho chiesto come erano andate quelle ultime ore e lei mi ha risposto ma io non ricordo assolutamente nulla nulla zero una rimozione totale è stato l'unico momento in cui noi abbiamo parlato di questo per il resto mio padre era evocato sempre con grande allegria attraverso il racconto di quello che faceva io passavo i pomeriggi da bambino a guardare quando ero solo a casa perché mi capitava spesso a guardare le fotografie di mio padre al Giro d'Italia al Giro di Francia ai campionati del mondo di questo di quello e quindi inevitabilmente un po' diciamo si alimentava in me il mito io giocavo con delle fische che trasformavo nei giocatori delle squadre di calcio e facevo la radiocronaca perché alla domanda cosa vuoi fare da grande rispondevo il radiocronista poi la vita mi ha spinto a fare altre cose ma insomma per cui ecco ripeto non so dire se sostitutivo però so che mia madre ha fatto tutti i ruoli possibili tutti i ruoli possibili è stata madre è stata genitrice ha avuto l'autorevolezza la comprensione e questo penso solo una donna sia in grado di farlo buonasera io ho visto lo spettacolo ieri sera e volevo fare i complimenti dov'è? ecco vorrei sapere questo il testo è autobiografico al 100% o c'è qualche aggiunta di fantasia? no no è tutto assolutamente corrispondente al vero naturalmente a parte diciamo l'espediente narrativo del dialogo tra me e mio padre ma tutto il resto è assolutamente reale perché inventare su un tessuto fondato sull'immaginazione sarebbe stata una scorrettezza invece la bellezza secondo me la bellezza a me non è le mie intenzioni è quando tu usi una dimensione magica per raccontare qualcosa di reale a me per esempio la fantascienza non mi entusiasma ma il realismo magico mi fa impazzire la letteratura sudamericana mi fa quando in una stanza entra un personaggio dell'immaginazione ma quella stanza non è fatta di pterodattili che parlano e di umanoidi ma è fatta di persone come noi e a un certo punto improvvisamente sbuca lì uno del 1800 quello mi piace perché mi piace l'irruzione della dimensione magica nel contesto reale per cui ho fatto l'operazione inversa in un contesto magico il dialogo tra due persone che non possono parlarsi sono stato rigidamente alla realtà tutto è citato tra virgolette non solo ma ci sono anche gli spezzoni che sottolineano con mattita rossa e blu questo sì perché appunto è tutta diciamo e poi ne abbiamo scelti una parte perché ecco volevo chiedere come come ha funzionato la scelta perché lì la scelta era quasi limitata insomma per esempio non c'è è solo evocata la scena in cui mio padre intervista Totò in Totò Tarzan no forse sarebbe stato eccessivamente didascalico e poi aveva un volto diverso da quello di Francesco e avrebbe fatto un po' come posso dire un po' sarebbe stata singolare diciamo anche lì anche nella scelta dei filmati mio padre fisicamente c'è solo una volta in una fotografia per il resto è sempre evocato c'è in quella fotografia che chi ha visto lo spettacolo chi lo vedrà capirà quanto sia stato importante però per il resto invece è sempre solo evocato ci sono altre curiosità? ma guardi è strano perché alla fine se io faccio il bilancio della mia vita io ho fatto nelle stranezze della vita io sono diventato direttore dell'unità esattamente all'età in cui mio padre è diventato direttore del telegiornale 37 anni e poi ho fatto molte delle cose che ho scoperto mio padre aver fatto cioè i film mio padre aveva scritto la sceneggiatura di Amore in Città aveva scritto la sceneggiatura di molti film di Russell quindi senza saperlo perché io molte cose le ho scoperte poi più recentemente senza saperlo alla fine naturalmente mio padre non faceva politica io ho fatto politica perché sono figlio di quel tempo quel tempo in cui mettevi la testa fuori e ti veniva voglia di occuparti del destino del mondo e sono contento di averlo fatto non ho nessun rimpianto anzi penso che la ricchezza della mia vita sia stata molto aver vissuto quella meravigliosa esperienza collettiva per decine di anni insieme ad altre persone di aver sperato in qualcosa insieme che è una cosa della vita importante per cui poi alla fine alla fine come il gioco dell'oca io ho studiato cinema e volevo fare cinema e a 18 anni una notte di tre genda dovete decidere se fare l'assistente alla regia in un film appena presa la maturità o se fare il responsabile degli studenti della federazione giovanile comunista a 18 anni una notte mi si spaccò il cervello e poi alla fine dipende che film era però non era 8 e mezzo e alla fine andai dove mi portava il cuore e sono contento di averlo fatto poi la vita che è diciamo magnanima e poi restituisce anche quello che toglie mi ha fatto tornare a fare quello che mi piace anche fare allora ci sono altre no allora prima di passare prego lei ha scritto un altro libro che mi pare che io ho letto adesso non mi dico mi dico il contenuto ma che io ho letto quanti anni fa vabbè no ne ho scritti diversi qui ci sono i miei editori potrebbe ne ho scritti diversi di romanzi ne ho scritti dunque il primo si chiamava la scoperta dell'alba e uscì nel 2005 2006 il secondo si chiamava noi il terzo si chiamava l'inizio del buio il quarto l'isola delle rose l'isola delle rose anzi e poi il quinto ciao questo di romanzi poi c'è un libro di racconti che adesso esce in Argentina che si chiama senza patrissio e che scrissi prima ancora e prima ho scritto dei saggi anche dopo ho scritto dei saggi quindi i romanzi sono questi 5 o 6 niente Senegal niente Senegal in qualche misura sì perché poi sai l'isola delle rose per esempio è quello un po' il Senegal nel senso che non è che io avessi diciamo conoscenza sono andato a parlare con il meraviglioso genio che aveva inventato quest'isola a largo delle coste di Rimini sulle quali voleva fare un casino e un albergo e che gli fu buttata giù poi dall'autorità devo dire anche però ecco quando scrivi un romanzo che è una cosa complicata da fare quando cominci ti sembra di scalare il tourmalet la prima pagina bianca però la cosa più bella è il lavoro di ricerca è il lavoro quando ha un qualche aggancio con la realtà è il lavoro di ricerca e questo per tutti i libri che ho scritto per alcuni in particolare l'inizio del buio che è un libro in cui si parla di Vermicino e del rapimento di Patrizio Pesci due cose avvenute lo stesso giorno lo stesso mese lo stesso anno quello ha fatto un lavoro enorme di ricerca e questa è la parte più bella secondo me anche proprio della scrittura e quello che precede poi la scrittura è fatica è fatica in quest'ultimo caso nel caso di Siao è anche grande turbamento psicologico però adesso non so a quale faccia riferimento ma insomma Madameina il catalogo è questo diciamo più raccolte di critiche raccolte di critiche cinematografiche di critiche calcistiche di interviste sul calcio fatte di tutti i colori senti la ricerca della felicità cos'è cioè non è una domanda filosofica è il titolo del film il titolo è indizi di felicità è un film che uscirà il 22 di maggio è un film che uscirà il 22 maggio e che insomma sono andato in giro per l'Italia a intervistare persone che mi raccontassero la loro esperienza di felicità in questo tempo così cupo così scuro così carico di inquietudine di dramma e di perdita di fiducia e di buio di buio sono andato a cercare persone che mi raccontassero il loro rapporto con la felicità il loro momento di felicità il loro giorno di felicità le loro esperienze di felicità e ho trovato delle cose meravigliose sono ho visto 300 persone ne ho intervistate 50 ne ho montate poco più di 20 ma sono delle storie meravigliose in cui si vede come la felicità possa confinare col dolore in cui si vede come la felicità sia condivisione come sia viaggio come sia sfida ma tutto non teorizzato io non sono andato a chiedere opinioni sulla felicità a filosofi sono andato a chiedere a persone di raccontarmi quando sono state felici e vengono fuori veramente delle cose molto emozionanti ecco per tornare io cerco di emozionare per divertirmi a scrivere o a fare un film mi devo emozionare e devo cercare di trasferire un'emozione manca Woody Allen negli intervistati si manca Woody Allen però ci sono appunto che ti posso dire gli operai di una fabbrica che stava per chiudere che si sono presi loro sulle spalle il destino della loro azienda c'è un sopravvissuto di Auschwitz che racconta come si possa essere felici e poi ci sono persone persone la cui storia e le cui interviste sono state per me persino drammatiche c'è una persona alla quale ho chiesto qual è il momento in cui è stato più felice è una persona anziana e improvvisamente è scoppiata a piangere la parola felicità la parola pianto sembra una contraddizione in termini e invece lui si è ricordato in quel momento l'istante di maggiore felicità della sua vita e quell'istante era talmente forte nella sua felicità da provocargli la reazione se si vuole opposta anche perché aveva la percezione della perdita di quella felicità che era legata a una persona ma ripeto se io mettessi una telecamera su questo palco e intervistassi ciascuno di voi sarebbe esattamente la stessa cosa talvolta ciascuno di noi è portatore di una quantità di poesia che non conosce neanche io l'ho provato con i bambini nel film sui bambini ho chiesto loro delle cose che non sapevo potevano anche fare scena muta ed era una meraviglia dicevano delle cose di una saggezza di un'intelligenza di un divertimento perché guardate io ho capito questo anche nelle interviste perché le interviste sono poi Maurizio se lo sa meglio sono uno strumento attraverso il quale si deve stabilire tra chi intervista e chi ha intervistato intanto un rapporto emotivo se questi bambini quando io li intervistavo all'inizio erano molto imballati perché aspettavano che io gli dicessi se stavano dicendo la cosa giusta o sbagliata perché i grandi ai bambini dicono sempre pollice su pollice giù quando hanno capito che io non gli davo giudizi hanno cominciato a correre come dei cavalli sulla spiaggia e raccontavano delle cose meravigliose una persona che si mette a piangere in un'intervista parlando di sé vuol dire che ha stabilito con te un rapporto di tale fiducia e di tale sicurezza da potersi consentire una reazione di questo tipo le persone sono meravigliose noi viviamo in un tempo in cui siamo portati a pensare che il circuito di odio che caratterizza certi strumenti sia corrispondente allo stato d'animo delle persone ma non è così non è così abbiamo rabbia abbiamo drammi abbiamo ingiustizie che subiamo ma l'atteggiamento delle persone è un atteggiamento che tende a cercare gli elementi di relazione non gli elementi di incupimento e di contrapposizione che diventa persino disperata le persone sono tutte portatrici di una meravigliosa quantità di poesia se ciascuno di noi si liberasse e le mettesse in circolo farebbe un miracolo concludo per parte mia c'è un luogo d'Italia meraviglioso che sta a Pieve Santo Stefano in Toscana ed è l'archivio dei diari è una cosa che si inventò Saverio Tutino che chiese cominciò a raccogliere i diari degli italiani io sono diciamo un attento osservatore di quello che fa questo archivio che raccoglie ha raccolto migliaia e migliaia di diari di persone semplici il fascismo raccontato dalla maestra di un comune di mille abitanti è uno sguardo che non troverete in nessun saggio di storia c'è una contadina che ha scritto il suo diario sul lenzuolo e l'ha scritto in forma circolare come le poesie di Apollinaire l'ha scritto in forma circolare ed è una specie di ruota di parole di una contadina che racconta la sua condizione ci sono diari di 700 pagine diari di 7 pagine e quei diari fanno sì che quelle persone siano ancora vive per tutti noi perché altrimenti sono vive nella memoria di chi le ha conosciute ma quel frammento arriva a tutti noi e quindi quella energia e quella vita non finisce non è dispersa scrivere di se stessi è un atto di grande generosità non è un atto di egoismo o di davanesi è un atto di grande generosità si racconta la propria vita e la si regala agli altri e non bisogna essere stato capo del governo per farlo o allenatore di una squadra o presentatore di un programma televisivo basta aver vissuto nel deposito dei giorni che si sono vissuti c'è una quantità di immenso materiale per il sapere delle generazioni successive non trasferirlo è un atto di egoismo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.